Sono scesi in 300 tra i pali di uno slalom gigante che si è corso sabato 12 aprile 2014 nel comprensorio piemontese della Via Lattea per festeggiare i 40 anni dalla conquista della Coppa del Mondo da parte di Piero Gross. Era il 10 marzo 1974 quando l'azzurro di sci alpino, che a quei tempi pur avendo un fisico possente era chiamato da tutti Pierino, appena a 19 venne e portò a casa l'ambito trofeo. Una bella festa con tante vecchie glorie dello sci azzurro che ha fatto ricordare a tutti le vittorie del campione Valsusino quando portava i capelli lunghi e scendeva tra i pali con grinta e potenza, dividendo l'Italia perché l'altro nostro campione era Gustav Töni.